Oggi vi vogliamo presentare questa bellissima Audi A6 Avant 3000 TDI 204 CV con come optional oltre ai fare lo xeno e ai cerchi in lega da 19 pollici sub-neumatici Pirelli P0 il pacchetto Sline quindi mascherina lucida paraurti anteriori e posteriori sportivi minigonne e spoiler al tetto all'interno troviamo sedili in pelle nera sportivi volante in pelle multifunzione sportivo a tre razze sistema di navigazione mmi plus clima automatico a quattro zone sedili riscaldati e cambio automatico estronic a sette rapporti adesso vi faccio vedere anche dietro dove troviamo le tendine parasole gli attacchi isofix per i seggiolini e le altre due zone del clima automatico inoltre quest'auto è tutta completamente certificata ha percorso 68.000 km ha avuto un unico proprietario ed è stata immatricolata nel 2013 voce rocci in l'ep Ad I I いく WC I I I I